il venerdì è occupato dal nostro ospite che è pronto. L'ospite del giorno è l'avvocato Andrea Agostini come sempre con noi. Buongiorno avvocato. Ciao Andrea. Buongiorno. Allora con Andrea Agostini l'argomento abbiamo anche in questo caso un po' stico. Noi andiamo sempre per cose non facilissime. Allora la situazione in Ucraina che influenza pesantemente qualsiasi ambito sociale, culturale, soprattutto in Europa e quindi c'è stata questa pesante discriminazione nei confronti dei russi in generale che si stanno lamentando di questa cosa chiaramente giustamente anche nelle televisioni e lo stanno facendo proprio pubblicamente non soltanto nei confronti come abbiamo detto di di chi attualmente è cittadino russo ma anche del passato c'è stata quella polemica di Dostoevsky poi gli intellettuali, gli sportivi, gli artisti sono stati allontanati per esempio perché filorussi oppure di nazionalità sovietica quindi un crescendo di assurdità senza fine. Allora sono stati discriminati pure i gatti e il atto blu di russia è stato allontanato dalle mostre feline. Vero? Vero sì purtroppo è così. Avvocato ma cosa possiamo dire? Allora che si può fare contro questa discriminazione che mi sembra veramente boh di un'assurdità devastante. La legge italiana cosa dice? La legge cioè cos'è? È guerra quindi cambia tutto? Ma dice bene Beatrice sembra tutto un'assurdità ecco eh dobbiamo distinguere tra quella che è la comunicazione politica a volte anche folcloristica e quella che è la realtà. Eh io credo che nessun italiano ha debiti al popolo russo, ai cittadini russi, ai russi che conosciamo anche nei nostri comuni eh responsabilità per la politica del Cremlino insomma nessuno qui è pazzo. Eh non vedo neanche l'ipotesi di un paese l'ideale di un governo che pone in essere delle misure discriminatorie verso i lavoratori russi in Italia. Eh sicuramente eh ci sono gli imbecilli eh quindi immagino che minacce specie via social non siano mancate e non mancheranno ma al di là di questo io non credo che si possa andare. Certo è che ha fatto scalpore la notizia nei giorni scorsi della ambasciata russa che ha disposto una una linea diretta per i russi che volessero segnalare in Italia atti di discriminazione eh che vuol dire minacce come dicevo ma anche eventuali aggressioni fisiche non eh però devo dire la verità eh è anche rilevante il fatto che la sessa ambasciata dice innanzitutto rivolgetevi alle autorità italiane quindi eh alla polizia giudiziaria eh perché perché se c'è un russo che viene eh discriminato per minacce molestie eh o quant'altro aggressioni fisiche ha gli stessi diritti che abbiamo noi. I diritti fondamentali sono garantiti a tutti quindi provvederà la magistratura nelle sedi competenti alla tutela di questi stranieri. Sì che ti ricorderai sicuramente abbiamo parlato già di queste cose eh riguardanti proprio la discriminazione eh quando accennavamo al DDL ZAN e eh appunto si faceva proprio riferimento al fatto che eh insomma c'è ci sono delle leggi in Italia che tutelano i cittadini proprio eh contro la discriminazione. Vogliamo un attimo così fare il punto della situazione su questo? Cioè se comunque una persona adesso al di là del fatto che sia russo o meno si sente discriminato nel suo ha la possibilità poi di eh eh così agire in via eh legale o in base al diritto no? Eh laddove sente discriminato questo questo suo eh ruolo? Sì come oltre alla tutela generale che abbiamo tutti esistono delle norme specialistiche che riguardano proprio la discriminazione in questo caso etnica legata all'appartenenza razziale. Faccio un esempio eh se un ufficio pubblico non mi dovesse rilasciare un documento eh se eh non so un datore di lavoro dovesse mi volesse pagare di meno rispetto a un altro lavoratore eh se ad esempio in un esercizio pubblico un prodotto eh mi venisse negato o invece è sovrapprezzato. Ci sono delle azioni civili che sono possibili innanzi al tribunale del luogo dove è stato commesso il fatto della discriminazione e eh possono costituirsi la legittimazione attiva si dice tecnicamente possono costituirsi anche le stesse associazioni che sono a tutela eh di questi cittadini per evitare che queste discriminazioni abbiano a presentarsi e in questo caso oltre alla cessazione della condotta discriminatoria eh si può portare a casa un risarcimento per il danno eh morale non patrimoniale eh che si subisce in situazioni del genere. Questa è un po' la situazione in punto di diritto. Poi dopo la politica la fa da padrona perché eh non vedo francamente questi rischi nella nostra Italia almeno per gli italiani che conosco io per come ci conosciamo tutti. Eh mi preoccupa e trovo imbarazzante invece la politica internazionale che sta facendo discriminazione vera questa sì degli sportivi ad esempio cioè vedere la il CIO che raccomanda le federazioni internazionali di mettere fuori gioco eh gli atleti russi eh francamente mi lascia mi lascia basino cioè fare entrare lo sport come per dire non facciamo più recitare a teatro gli artisti russi cioè è veramente una cosa da fuori di testa. Ma sta accadendo questo comunque eh. Questa è è la vera discriminazione che oggi è in atto. Io non vedo la discriminazione mia o vostra nei confronti del del cittadino russo che abbiamo dalle nostre parti. Anzi anzi. Io vedo una politica internazionale che discrimina e che fa dello sport un campo di battaglia. Ma sai Andrea adesso qui ovviamente si accendono gli animi vengono fuori anche altro tipo di discriminazione insomma eh da parte di persone che hanno sentito forte questo peso soprattutto riguardante il discorso vaccinale no? Quindi eh chi non ha aderito alla vaccinazione poi si è sentito discriminato nei confronti degli altri appunto eh e poi vogliamo ritornare non ci ritorniamo perché è argomento che abbiamo già trattato sul discorso eh appunto del lavoro del diritto al lavoro del del ricatto occupazionale insomma eh l'abbiamo l'abbiamo già detto però insomma mi sembra che in questo stato di cose eh non ce la passiamo proprio tanto bene come stato italiano tu sei molto più fiducioso insomma eh nel nel dare all'italiano medio tutte queste grosse possibilità? Guarda sono fiducioso negli italiani perché sono italiano conosco me conosco voi ci conosciamo tutti quindi veramente vedo trovo impossibile che si faccia discriminazione di un cittadino russo in Italia però eh è pure vero che eh di fido eh del potere quando esercitato con tecnologiche perverse eh e quindi mi auguro che le federazioni sportive italiane non discriminino gli atleti russi pur a fronte di una raccomandazione CIO che è veramente indegna. Sì. Poi ecco vorrei vedere episodi di condanna. C'è stato il caso eh di un giornalista eh di un eh giocatore di calcio mi pare dell'Everton se non ricordo male che ha dato del bastardo al capitano eh di calcio della nazionale russa sui social su Facebook. Ecco questi episodi andrebbero condannati per un cittadino normale a maggior ragione nel mondo dello sport. Gli atleti dovrebbero essere d'esempio. Non mi sembra esserano state assunte delle misure nei confronti di questo calciatore dell'Everton. Ecco lì allora la giustizia sportiva dovrebbe far sentire la sua voce. Oppure discriminazioni più spicciole eh se pensiamo al al numero uno del tennis eh Medvedev se non ricordo male è un atleta russo che continua a giocare tranquillamente. Poi però se andiamo a vedere altri sport minori questi atleti non possono esprimersi. Non vorrei che per qualcuno fosse un modo per arrivare prima e vincere una medaglia perché faccio fuori tra virgolette eh l'atleta concorrente. Ecco queste distorsioni sono veramente discriminazione. Beh è capitato all'altro no? Beh sì sì oppure oppure che ne so tipo i sequestri a proposito di società sportive no? Visto che eh hanno sequestrato quasi tutto ad Abramovic che è il patron del Chelsea. Sì questa eh bellissima domanda anzi un bel ragionamento perché eh si potrebbe anche pensare che è discriminatorio eh il congelamento dei beni di questi oligarchi. Poi non fa presa socialmente perché diciamo sono plurimiliardari quindi eh chi se ne frega non è la nostra vita di tutti i giorni. In realtà mh quella non è una discriminazione. È prevista specificatamente per legge. Mi pare che sia il duemilasette la nostra legge nazionale. Sostanzialmente per evitare il finanziamento del terrorismo, per evitare la proliferazione di armi. Quindi si vengono a colpire quei soggetti che vengono individuati in una black list che potrebbero appunto contribuire a finanziare in questo caso eh la guerra eh dei russi. Aggiungo un ultima riflessione anche se il venerdì dovrebbe essere un giorno leggero ma voi spingete sempre su argomenti come nessuno mai. Questo c'è. Noi c'avevamo malena nei locali ma me l'hanno bocciato. Eh beh sì eh allora. Vi faccio un altro vi do un altro spunto su cui riflettere eh l'articolo dieci della Costituzione no? Adesso si parla di procedure di asilo per i rifugiati dell'Ucraina giustamente se vogliono accelerare queste pratiche normalmente lunghe. Io mi chiedo eh le medesime procedure verranno previste anche per i cittadini russi perché eh l'asilo viene dato a coloro che non possono esercitare libertà democratiche. In questo momento sta passando il messaggio che coloro che protestano contro la eh guerra voluta da Putin vengono arrestati pure che pacifici in Russia. Quindi non possono manifestare. Altra cosa gli stessi giornalisti in media no? E chiunque desse informe chiunque dovesse dare informazioni fake ritenute fake dal governo quindici anni di carcere no? sono notizie importanti anche questo libertà d'opinione negata. Allora in questo caso mi chiedo per i russi che a questo punto anche i cittadini russi non possono esercitare libertà democratiche eh come come accade per gli ucraini e per tanti altri. Stiamo prevedendo anche per loro eh la medesima possibilità di accesso semplificato in Italia eh al nostro diritto d'asilo. Eh dicelo tu. Stiamo disponendo l'accogliente. Sta vedendo. No. Eh io io credo che non stia accadendo però ecco sono cose sulle quali oggettivamente in modo asettico distaccato dobbiamo tutti ragionare. Eh sì. Non vuol dire essere eh filo russi. No no certo assolutamente. Io so che è quello che è giusto. Se tu sei vittima all'estero non puoi esercitare i tuoi diritti fondamentali. Gli stessi che posso esercitare io. È giusto che io sia solidale e dia tutti le stesse possibilità. Ma certo sono questioni umane eh chiaramente. Esattamente. Grazie ad Andrea Agostini per essere stato con noi. Ci risentiamo la prossima settimana. Ultima cosa avvocato. Vai. Si è iscritto alla mezza maradona a Civitava Varche e degli organizzatori mi hanno detto di farle sapere che lei si è accreditato con un tempo se va sotto quello no sopra quello. Sì. E poi sarà scritto dappertutto. Ah bene. cominciate a scrivere. Io adesso non so chi ti abbia dato questa notizia ma è vero sì. Domenica riprenderò le scarpette e comincerò a correre ma sono assolutamente fuori forma. Quindi. Ah non ti preoccupare. Cominciate a scrivere. Ti sta molto peggio di te. Quindi stai a posto. C'hai capito. A passator non porta prima. Sì sì va bene ok. L'importante è ripartire ci sarò perché sarà una grande festa. Grazie. Grazie avvocato buona giornata. A voi buona giornata. Radiolinea numero uno.